... ancora un po' la moto, nei testi sono andati forti, però visto in forma, molto in forma anche altri piloti, ma solo nelle gare scappierà veramente il reale potenziale. Tra gli altri piloti c'è stato l'avversario dell'anno scorso, Mark Marquez, a sensazione sarà ancora un confronto Andrea Marti? Mi piacerebbe, ma a favore che ce ne saranno altri, quindi no no, ci siamo in tanti a poter giocare il campionato, non solo le gare, però Mark credo partirà ancora un po' più in forma dell'anno scorso, di inizio stagione dell'anno scorso, quindi non sarà facile, ma la stagione è lunga e tante cose possono succedere. A te stesso cosa chiedi in più? C'è qualcosa di chiedere in più proprio all'atleta, al pilota, al di là della moto? Sì, sempre migliorare, sono sempre alla ricerca di trovare qualcosa per esprimermi ancora meglio, come sono riuscito a fare l'anno scorso, però sì, essere forte, ancora più forte, dove l'anno scorso non siamo riusciti a fare il podio, sicuramente è la chiave di svolto. Grazie, sei diventato un po' fashion anche tu, dai. Sì, dai, più o meno, se vedi come sto vestito.